Roma e New York risultano le mete più gettonate per chi ha deciso di festeggiare fuori il Capodanno. Ma in tanti, per risparmiare, quest'anno trascorreranno la notte di San Silvestro a casa, in famiglia o con gli amici. Secondo i dati dell'osservatorio di Trivago.it, fra le mete più ricercate dai connazionali, Roma conferma il primo posto, pur con un prezzo medio a camera a notte di 176 euro e un aumento rispetto alla media di dicembre del 63%. Il bel paese è da sempre una meta molto ricercata anche da parte degli stranieri, che confermano il podio prescelto dai connazionali, con Roma, Firenze e Venezia nella top 3. Tra le città extraeuropee prescelte dagli italiani, il podio invece va nuovamente a New York, che si prepara ad accogliere i turisti con un prezzo medio a notte di ben 343 euro. E il tutto esaurito si registra nelle mondane Capri, Cortina e Madonna di Campiglio, ma anche a Livigno e Canazei. L'Alitalia, per le festività di fine anno e dell'Epifania, prevede di trasportare il 3,4% in più di passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il 68% dei connazionali brindera in casa al nuovo anno.